... Commosso addio oggi al cimitero di Campese di Bassano a Sara Pizzato, stimata 42enne estetista che ha perso la vita in un incidente stradale. Un ultimo saluto da parte di tante persone che la conoscevano e l'amavano. Nell'omelia funebre tenuta da donna Massimo Valente, parroco di Campese, parole di speranza tratte dal Vangelo di Giovanni, dove Gesù in punto di morte affida la propria madre al discepolo adorato, parole tratte anche dalla lettera di San Paolo ai Romani, dove si legge che nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio. La nostra fede ci dà la certezza che la morte non è la fine di tutto, ma un passaggio, è una Pasqua in questo senso. per vivere per sempre da risorti con Cristo. Adesso, ha detto ancora don Massimo, Sara viene accompagnata dalla Madonna Celeste in Paradiso per unirsi con il proprio padre, Ampelio, e vegliare sulla famiglia, sulla mamma, la sorella, il figlio Massimo e quanti l'hanno amata. Il padre, lo ricordiamo, è morto dieci anni fa ed è sepolto proprio nel piccolo cimitero che stamattina ha visto una folla commossa chiedersi ancora troppi perché.